salve a tutti dall'orto di tex queste sono le talee che ho fatto in questo ultimo mese praticamente le prime hanno 35 giorni le ultime hanno qualche giorno che ancora non ho caricato i video e per far vedere l'ho lasciate fuori questo non l'ho mai messo in se stanno qui a fine novembre il 28 qui ha anche nevicato e ora ieri ha rinnevischiato che era la madonna e vi faccio vedere i risultati che freddo qui non fate caso al casino è dove pianto tutto ma lì andiamo ad aprire tutte e vi faccio vedere qualcuno le foglie qualcuno le gemme e ai limoni prendiamo due limoni che dove ne spianti innestate menanzane nuove lanciano innestate i portainnesti di tutto prendiamo due limoni le prime talee che ho fatto e salve il rosmarino vi faccio vedere solo il rosmarino indubbiamente c'è da dire che le piante riprodotte per talea o tramite margottea sono piante che hanno bisogno di più attenzioni che durano di meno sono più deboli delle piante che nascono da seme vera che nascono da seme logicamente si fa prima a far radicare un rametto che a far nasce una pianta da seme ma le piante da seme sono le migliori e infatti le talee e le margotte le fo nel frattempo che aspetto che mi nascono i semi e per velocizzare questa cosa invece che prende il seme e metterlo nel terreno o nel coccitellino con la terra che va benissimo io li faccio germinare tutti col metodo dello scottex queste sono tre qualità di pesche e due qualità di prugne vedete questa ora le passerò nel vasetto perché sono piante completamente fornale e questa in 15 giorni si fa una piantina così mentre se la metti nel terriccio a volte ci vuole tanto tanto di più in più io spello anche i semi ma questo ve lo farò vedere in un altro video e si fa con tutti i semi qui per esempio ho pesche e prugne qui ho mirtilli qui mela rossa e mela gialla mandorlea mare dasteri mele fuji mele verdi per abate limoni ribes mandarini e susine nere cioè ora però ritorniamo alle talee questo è un prugnolo selvatico che praticamente non fruttifica ma come porta innesto è una bomba e queste sono le margotte poi vi farò vedere come si fanno anche questo è semplicissimo questo è un ottimo porta innesto per le prugne bianche le scoscia per le prugne bianche della regina le scoscia monica che sono quelle ovali nere tipo le californiane e un'altra qualità che sono tonde nere ma non mi viene il nome e lo uso anche come porta innesto per l'albicocco questa ad esempio è una margotta in un olivo vedete qui metterà tutte le radici poi io qui lo taglierò e questa è lunga due metri guardate che spettacolo cioè vengono in 90 in 90 giorni c'è una pianta fatta praticamente alta due metri allora rieccomi qua ho scartato i cosetti ne avevo preso due per qualità ma poi però ne ho aperte solo una perché dopo le dovrò richiudere tutte quindi ne volevo aprir due ne ho aperte una perché tanto per il momento cioè quelle che hanno più giorni sono rosmarino salvia e melograno e melograno vedete loro hanno anche già le foglie belline però comunque sia hanno 35 giorni l'apparato radicale ancora non c'è perché minimo serve una novantina di giorni per le talee queste mentre per la salvia e per rosmarino 30 giorni ma vi farò vedere guardate bello c'è tutte le inflorescenze nuove e in più si vedono già le radici dal bicchiere guardate qui qui infatti questo ecco 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 una talea come mette le radici vedete qui ancora c'è il bastoncino lungo ecco 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 ec e questa ha 35 giorni quindi nemmeno ci vado a provare a levarla perché so che l'apparato radicale se ce l'ha avrà minime cose non conviene comunque sia quando saranno passati tra i 60 e i 90 giorni vi dirò di tutte quante, quanto hanno radicato e vi farò vedere anche le radici di tutte quindi questo è il melograno ok poi che c'era il prugnolo ho fatto prugnolo eccolo qua anche il prugnolo vedete una due e tre germe anche con la puntina bianca si si vede e quindi anche loro del prugnolo uno non mi è preso invece poi salvia, rosmarino, melograno, prugnolo l'olivo ci ho controllato ancora non hanno buttato niente il ciliegio eccolo anche il ciliegio ne ho fatte sei hanno preso tutte sei ci hanno tutte quante ecco così i loro bei germoglietti che si stanno aprendo mette a fuoco ecco vedete dove è più bianco ciliegio ciliegio lo spuntavo ah i fichi le ficone ce le ho giù al campo ma ho il video dopo lo monto ve lo faccio vedere il melocaco qua i melocachi qui ne ho scartati due perché in questo caso guardate eh questi hanno melocachi 25 giorni infatti sta buttando questa questa e questa qua vedete in cima sono bianche si stanno aprendo in più del melocaco e in più del melocaco ne ho fatte quattro però in un vasetto ho detto voglio provare a fare anche quelle punte che vedete non sono lignose e hanno preso anche le punte vedete sta aprendo il germoglino eccolo così si vede è bianco e quest'altro ne ha buttato uno anche qua giù alla base anche quest'altro ha preso sono anche più cresciuti vedete si sta aprendo ok poi melocaco me le sono scritte perché sennò melocaco ci siamo arrivati nespolo giapponese il nespolo giapponese a 20 giorni eccolo qua il nespolo giapponese non ho fatto i quattro che lo devo da un amico e anche questi ecco così si vede vedete qui qui sta germogliando poi ah i limoni anche i limoni ne ho fatti quattro hanno preso tutti e quattro i limoni hanno 13 giorni attenzione guardate velline già stanno qui già si vede la fogliolina qui e qui ok poi dopo io ne ho fatte anche altri perché non ho pubblicato tutti i video ho fatto l'albicocco vedete vedete si sta aprendo ho fatto il solanum torvum eccole uno di queste ne ho fatte quattro hanno preso tutte e quattro questi sono i porta innesti delle melanzane ci sono di due qualità il torvum e il crisoticum ce l'ho tutte e due questo è un discorso capirò a febbraio poi che ho fatto ah i noci anche questo del noce il video non l'ho ancora caricato non so se lo carico perché alla fine è quasi uguale agli altri vedete uno due tre poi questa era la cima del ramo come già vi ho detto ora a debito momento quando avranno più o meno 90 giorni perché poi queste io non le ho messe in terra ma le ho tenute tutte fuori e come già vi ho detto prima qui il 28 di novembre ha nevicato ha nevicato c'è stata per un giorno il secondo giorno che si è sciolta ieri sera che era la madonna ha nevischiato e stamattina ha piovuto e un'altra cosa molto importante che nei video non ho detto il terriccio di tutte le talei deve stare sempre umido deve essere sempre mollo sempre umido per favorire la crescita delle radici e quindi prendono anche a tenerle fuori perché io ho fatto sta prova in serra prendono un pochino di più in serra magari invece che averci il germoglio magari c'aveva già anche la fogliolina perché essendo più caldo le piante vegetano di più però se uno non ha possibilità di una serra ok che le mette fuori loro prendono lo stesso ecco i risultati ciao a tutti ciao a tutti